amici miei vorrei sapere quanti soldi avevi se vi occorrevo in macchinina questi capelli stasera sono ribelli ragazzi allora fusione daimler e benz ha fortissimo ragazzi quando ci spiega le cose questo gioco a me piace tantissimo 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 ciao amici e amiche ciao amici e amiche come state come state come state cosa come state condividiamo la nostra mitica live di stasera e incominciamo a giocare allora vediamo un attimo perché ogni tanto questo questo sistema si incasina si incasina allora discord telegram telegram non me lo ricordo mai raga twitter e il mitico facebook pace book ok condiviso raga condiviso 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 che bello arriviamo al venerdì gran turismo venerdì gran turismo mi piace mi piace un botto allora la mura il 400 bertone vediamo un attimo i nostri amici della polifoni cosa hanno combinato ah c'è ancora questo carciofone qua 2 milioni e mezzo ragazzi andiamo alla capra pal qua ciaparal dai andiamo a comprare su ciaparal allora la mura molto bella molto bella sono riuscito a comprarla ci sta ma secondo me si potrebbe fare anche con la tomahawk ciao sound alert ciao stream elements grandi anche voi arrivate un po quando volete eh grandissimi grandissimi stream elements oh entrano i zanzarine le zanzarine oh le zanzarine raga ciao amici amiche di twitch cominciamo un po di farming perché stasera è arrivata la ciaparal la ciaparal c'è una zanzara che si sta facendo la festicciola la festicciola chiaramente lasciano aperta la finestra e con aperta la finestra tutto il mondo entra perché è così ciao amici amiche di twitch benvenuti benvenute venerdì venerdì con gran turismo 7 o giulia amica mia uuela ciarderino amico mio grande marco brandonina ciao amici amiche di twitch benvenuti e benvenute venerdì febbreggiante venerdì un po col botto come è successo adesso contro il muro venerdì col botto allora io a questo punto ero già molto molto più avanti normalmente ma il venerdì inizia un po piano pianino visto il colore che ho fatto no allora sono pronto per correre sì visto le ultime cose non le vediamo insieme vicomiglio sharder giuli assolutamente sì quello che dice venerdì leoni sabato mattina pioni un venerdì da sfumeggiante mi piace questo tipo di ragionamento giulia ok allora siamo in sardegna viuster e crauti amica mia viuster e crauti col panozzo e con le patatinozze frittozze tante salsozze due bei panozzi diciamo che mi sono sono abbastanza fiero come spesso l'unica cosa che mancava era la cacchiole zanzale era la la bevanda zuccherinosa che mia moglie non mi compra più e devo andare a comprarmela io mamma mia ci deve essere qualche preparo lo spumante grande grande sharderino vai vai di spumantino anche perché stasera vincerà marco drams games me lo sento allora ragazzi deve essere qualche animalozzo in giro mi sta dando fastidio qualche animale quindi sappiatelo che qualche zanzara qualche roma del genere che continua a girarmi in tondo ciao amici amiche di twitch benvenuti benvenuti ragazzi e ragazze grazie ho un po di sprizzettino l'altra volta avevo all'audi non siamo riusciti a farla esattamente io direi di farla subito allora e io direi sharder di farla subito appena finisco perché poi arriva qualcuno e dobbiamo poi fare un casino mille piedi e si ma io quando faccio queste cose qua poi mi da fastidio dappertutto c'è adesso una zanzara che gira in giro giulia e mi fa e sta facendo festa perché mi sta pungendo dappertutto ti giuro ti giuro una cosa noiosissima io odio l'estate per le zanzare non per gli animali quelli che pungono quando andavo a fare service c'era sempre poi sono anche un po allergico a quelle vabbè non posso dire i nomi però sai quello con la a quello con la o gli anti zanzare insomma e quindi quando li metto poi mi faceva un po bruciare la pelle quindi non li metto mai no e allora praticamente sì 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 e poi con la f1 per la livreuccia allora sharder secondo te ma si può fare la livrea figa su formula 1 bisogna vedere quello nuovo bisogna vedere a tutti un buon venerdì sera ragazzi col nostro spritz bello ghiacciato si raga ci sta ci sta lo spritzettino eh ci sta lo spritzettino eh raga allora devo ricordarmi assolutamente di frenare un po prima prima di tutto e poi assolutamente assolutamente ehm dirvi di non bere prima di guidare eh noi stiamo giocando sì 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 idem 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 io chiaramente mi sono assolutamente dimenticato di codesta cosa da fare quindi dovrò assolutamente entrare prima i box ecco perché viaggiava sta macchina normalmente ovviamente non piace niente perché la metto il consumo carburante massimo l'ammazza somaro l'abbia l'ammazza somaro che è l'ammazza somaro giuli l'ammazza somaro non l'ho mai sentito cos'è l'ammazza somaro ah non un insetto non lo so non l'ho mai sentito prima vi farei vedere una foto di chi era l'ammazza somaro magari che nelle marze si chiama così eh infatti magari è qualcosa che ci abbiamo dappertutto solo che voi lo chiamate ammazza somaro ed è la prima volta che lo sento è anche piacevole come nome di insetto si si ma tranquilla mi farai uno screen o quando ne vedi uno ooooh a belli sei stato te mamma mia c'è da zanzara ragazzi che mi si sta veramente alterando l'umore allora portilla è già in box fraga è qui stasera sono molto carico e anche molto scarico dovrei compensare perché la caricicità di oggi con sto caldo con queste zanzara sarà una sicuro che è una è una che sta facendo sta facendo un banchetto con me allora ragazzi è uscita la ciaparal la ciaparat di macchina Marco bisogna comprarla a due milioni e mezzo quindi tre tre volte sta pista e si compra la ciaparat bello il rumorino della MG della Mercedes che è molto allora ragazzi io vi chiedo anche di seguire il mio canale youtube anche se so che voi lo seguite già però tutti quelli che si collegheranno anche quando vedranno questa live in in diretta vado a mettere vai 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 amico siamo al quinto giro e si così lo facciamo presto Shard riusciamo a farla presto riusciamo a farla io e te con l'Audi se no poi cominciano a entrare i nostri amici di Twitch che magari non ce l'hanno dobbiamo correre con l'altra macchina e gli stavo dicendo c'era il limone di Sicilia dentro buono gli stavo dicendo ho fatto dei video di Dragon Dogma molto bello molto bello infatti grazie all'amico Lord che me l'ha consigliato l'ho comprato subito a 3 euro e qualcosa sullo store veramente merita pensavo graficamente peggiore invece con molto stupore non è niente male si vede che non è un Horizon Forbidden West ma assolutamente assolutamente giocabilissimo non scatta e bello 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 Giulia si molto bello poi tra l'altro piaceva anche al mio drago qua dietro quando ho visto il dragone rosso il drago ha detto eh si eh si è vero è vero dai ci consigliamo i giochi giusti solo che su Twitch non lo porterò mai lo farò tutto su Youtube faccio i video e li pubblico su Youtube eh eh Sharder eh si c'era il drago qua dietro qui diceva eh interessante quel dragone eh interessante che mi piace mi piace bello incazzatino all'inizio proprio si deve sconfiggere il drago eh si Giulia eh si gatto gatto occhialuto gatto occhialuto per tutti bellissimo il drago il drago il drago c'era il draghetto dietro che piace molto drago doc ma ma possiamo fare un altro giro ciao amici e amiche di Twitch benvenuti Gran Turismo 7 amici e amiche di Twitch stiamo facendo un po' la pisterella e poi andiamo labbra di tuono è arrivato il Pier Paolo dissociamoci categoricamente si si Sharder dovrebbe esserci se non va fuori a bere qualcosa con le amiche con le sue amiche c'è dovrebbe arrivare tra poco la Carlita e labbra di tuono Pier Paolo si dissocia ah no il Sharder si dissocia lui preventivamente ci sta ci sta come tipo di ragionamento anche se al dragozzo io non gli romperai tanto le scatolozze eh 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 al dragozzo io non gli romperai tanto le scatolozze perché noi ci possiamo dissociare ma lui si incazza eh già vedete che il drago eh il drago è un po' di giorni è un po' di giorni il nostro amico drago che c'ha le fiamme eh quindi è veramente veramente preso dall'incazzatura generale e non ehm non ce la faremo a a a spegnergli le fiamme dalla bocca no la macchina no ma è la macchina letto no 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 sera Pier grande Pier ok ma lascia pure acceso la luce mamma e la porta a metà grazie grazie apposta ok la ciaparate si 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 andiamo a prendere la ciaparate hanno messo la ciaparate ragazzi è per quello che sto facendo un po' di big money per andare a comprare quella mitica macchina che sembra un frigorifero Pierpaolo anche te a tutti i ragazzi sharder lucas ah ah un po' di spritz per tutti ragazzi un po' di spritz per tutti è entrato il nostro ammazza predator ragazzi un'altra no sembra più un letto ah 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 sondaggio esatto 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 sera guardo Pixblierder Pixblier boh non so che cos'è mico mio che cos'è Pixblier e un bel sondaggio ci starebbe Giulia e siamo venerdì hai tu oee lion ciao mitico come stai grande oh lion hai rischiato con 5.000 5.000 mitico ciao lion grandissimo ascolta se non sei iscritto al mio canale iscriviti immediatamente tutto ok bro grande ciao ryan un po' di grinding stasera grinding a sapere che cos'è il grinding ti direi anche di si ryan oh lion games 90 grazie grazie amico mio grandissimo wixblier grindare farmare ah amico mio ryan se parli l'italiano ti capisco subito assolutamente si c'è la ciapparatta stasera ryan la ciapparatta lion hurt grande lion ah ok ok grandissimo grazie grazie dell'iscrizione grazie del follower siamo sono contro un muro siamo 568 dai raga che dobbiamo arrivare 570 nel weekend 570 amici di twitchers c'è la ciapparatta la lavatrice esatto la ciapparatta e dobbiamo assolutamente comprarla perché anche se farà schifo grande giulia si benvenuto lion games 90 grandissimo anche se la ciapparatta la fa brut riprendi fiato amico mio ma il fiato qui non c'è ragazzi a 300 all'ora si fa una fatica boia infatti mi metto pc dai 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 che se famo i sondaggi come dice l'amico pierpaolo dai dai juliet juliet ti potrei chiamare io l'ho presa devo ancora non state 30 milioni perché devo essere pronto quando usciranno quelle da 20 assolutamente si ryan assolutamente si tienele non fare come ho fatto io perché sinceramente guarda avevo 38 milioni il giorno del mio compleanno è stato un giorno spettacolare perché ho speso 38 milioni mi sono divertito tantissimo però sono rimasto senza soldi mi hanno tolto ve l'ho detto che mi mettevo pc grande juliet infatti mi ricordavo una cosa del genere però l'amico pierpaolo che mi ha ricordato la questione dei sondaggi mi è subito venuta in mente te la promessa è promessa brava grande ryan si 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 c'è la mitica julia c'è la mitico lord ci sono tutti i nostri amici ci facciamo marco dranz game sharder design bragali gr7 grande sharder grande grande lion uh lucas ha scritto qualcosa cosa avrà mai scritto il mio amico lucas due messaggi addirittura su whatsappi uh ah sarà probabilmente mi avrà mandato il link di quel gioco lì che parlava lui bello 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 o un film magari ciao amici e amici di twitch benvenuti benvenute ai social ai mitico e ai un compra per tutto il merchandising e tutti i siti di marco dranz games channel eh grandi ragazzi grazie 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 comprate magliette berretti così ci vediamo a cup of tea a cup of tea a cup of tea grande giudy a cup of tea a cup of tea la cazza la tazza di tè la tazza di tè a cup of tea ragazzi qui si parla inglese international marco dranz games channel così quando arrivano gli inglesi e gli americani nel canale capiscono che si fa sul serio si fa sul serio e si parla inglese anche perché nelle informazioni del canale credo di aver messo anche inglese eh si lion eh si amico mio questo è gran turismo 7 guarda ti faccio vedere la livrea guarda la nostra livrea che ha fatto il mitico sharder design che è mio amico e mio collega a cup of tea è bello bello rai a cup of tea come si dice magari a napoli si se volete unirvi a marco dranz games sharder design la nostra accademia siamo proprietari al 50-50 e io sharder anche se non ho avuto il bonifico dei 30.000 euro che necessitiamo per avere la mezza proprietà del team però vabbè facciamo finta di niente e e e noi vi facciamo entrare tutti potete scaricare la livrea e il il tag chiaramente BRZ FITag ricerca sharder 98 potete scaricare le livree di marco dranz games sharder design e dell'accademia e poi quando corriamo corriamo tutti con la livrea dell'accademia che arrivano nel 2050 si non sono di un altro che non ho presente se si parla si parla ma come l'esperienza della volante allora è spettacolare spettacolare adesso tu mi vedrai senza il volante ma non è perché sono svogliato è solo perché sono svogliato effettivamente ok ti faccio vedere butto questa la fine staglia capabash ok ok allora l'esperienza col volante ti fa immergere nel gioco nel senso che tu non presti attenzione al volante ma presti attenzione alla strada no e i miei i miei i tuoi non arriveranno mai si e praticamente aspetta che devo mettere anche le marce perché così mi sembra di correre con un giochino non proprio al 100% e ti senti molto più immerso nel gioco no dopo quando giù li facciamo no fai un sondaggio Marco Drums compra la Ciapparat o no si o no Marco Drums deve comprare la Ciapparat la Ciapparat si sta la Ciapparat a Ciapparatti la Ciapparatti la Ciappatopi ok e praticamente a parte che mi sta massacrando una zanzara proprio sui piedi dove ci sono la pedaliera con freno frizione e acceleratore devo dire che il Logiter G923 è molto affidabile perché prende delle legnate a Zanzara Strong sei molto strong questo zanzara mi sta davvero ragazzi cioè voi non potete capire mi sta massacrando ma credo che è una non è sembra uno sciame ma è una sola Maurizio amico mio grande adesso che è passato il mio amico a salutarmi sono veramente veramente felice grandissimo come stai tutto bene tutto bene un piccolo pausettino di lavoro dai 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 caspita Maurizio ti voglio voglio farmi una partitella con te con la mitica con la mitica abbiamo fatto due volte a fare delle belle partitelle a Gran Turismo sette insieme amico mio e non siamo più riusciti anche con il mitico Sharder Sharder ti ricordi quando c'era il mitico Maurizio che figata di gare che abbiamo fatto ormai si parla al passato perché a Zanzara l'ho mandata io ti buco le gomme Sharder grazie addirittura addirittura che manda le zanzare ragazzi per poter vincere facile bella mi piace questo tipo di comportamentazione bella lì ci sta ci sta Sharder molto molto affine molto intelligente come tipo di strategia strategia di gara mandiamo le zanzare da Marco Drums all'indirizzo ma è che sta comportazione esatto Ryan dillelo anche tu ma cos'è sta comportazione qui da Marco Drums ne inventiamo le parole poi le freghiamo da tutti i vari youtuber e comici che ci sono nel nostro bel paese Marco puoi ripetere alla Giulia il sondaggio compriamo la ciaparat sì o no eh sì sì grande Lion grande Lion 568 dai che arriviamo 570 amici e amiche di Twitch iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto grandissimi dai che arriviamo 570 amici è da tre giorni che fermo sto contatore grandissimo Lion sei iscritto stasera eh beh certo 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 Sharder allora per tornare al discorso del coinvolgimento è veramente figo poi grazie Lion grandissimo dai dai ci divertiamo Lion ci divertiamo un po' stare insieme grazie grazie di tutto è bello grandissimo grandissimo e diciamo che l'auto vuole dall'ebrea la mia amica Bragali adesso glielo chiediamo a lei perché Carla sai che è un po' particolare nel senso se gli piace l'automobile ci corre se non gli piace fare una livrea per niente grande lord ciao tutta la chat è vero è vero grandissimi grandissimi amici e amiche della chat speriamo che arrivi la mitica venite a far parte del nostro team esatto esatto Sharder scrivilo è perché è sempre bello da ricordare i nostri amici che se vogliono giocare con noi abbiamo l'accademia e possono scaricare la livrea dell'auto che corriamo e correre con le nostre livree eh uuuu 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 sondaggio raga fatto allora la compriamo la Ciapparat o no? mi puoi dire come è finito il sondaggio Giuliette? la compriamo la Ciapparat o no? dai che mancano dos giros dos giros ancora deve finire ok fammi sapere se la compriamo o no la Ciapparat che tanto la compriamo lo stesso però voglio sapere i nostri amici cosa ne pensano di quel eh condizionatore con quattro ruote eh perché effettivamente ha un po' la parvenza di condizionatore e frigorifero è frigorifero un po' un po' ci assomiglia un frigorifero dobbiamo essere sinceri uuuu zio Mario ah ah chip chop grande zio sono venuto prima da te che figata quel gioco zio eh davvero davvero peccato che non ho la switch perché è veramente troppo figo e divertente noi ci facciamo tante di quelle risate con un gioco del genere però si potrebbe anche scaricare eh 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 rossomico mio oh bravo 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 liberiamoci da sto lavoro che ci imprigiona tutto il giorno se lo vuoi comprare comunque l'ha fatto fare il sondaggio che l'ha fatto a fare il sondaggio lord i sondaggi si fanno sempre come le elezioni si vota chi vuoi che vada su al governo poi è già scritto chi andava su marco quando portiamo qualcuno insieme eh dobbiamo vedere dobbiamo vedere zio marietto perché effettivamente stasettimana ho ciccato alla grande alla grande con spill force 3 che non c'era nessuno e praticamente e non possiamo e praticamente è andata un po' in pappamolle tutta la programmazione adesso devo fare gran turismo formula 1 ciao amore mio bella amore vieni patata che sharder vuole giocare con te tesoro e io che sto portando io esatto però la cosa bella zio è che avendo avuto lord l'amico lord che piace in un botto anche lui sti giochi nella mia live ha comprato anche lui il giorno dopo spill force 3 che tra l'altro è fighissimo è fighissimo un gioco vecchio per pc che l'hanno rimasterizzato per console di nuova generazione e l'ha fatto pagare a prezzo pieno brutti balordi e chiaramente è talmente bello che l'ho comprato vabbè e comunque a fine mese arriva il formula 1 nuovo amici amici miei io volevo portare magari un po' prima roller coaster zio mario e magari fare anche fall guys un fall guysino che ci divertiamo un botto lo prendi della sto fast parte una no non perché non vale perché secondo me ha fatto un lavoro pazzesco ma 70 euro per un gioco che l'ho già fatto due volte dall'inizio alla fine che me lo ricordo quasi a memoria e mi ha toccato perché secondo me è stato bellissimo uno dei migliori giochi che ho giocato però 79 euro secondo me non è che non li vale perché il lavoro della gente si paga ragazzi come credo che tutti noi vogliamo essere pagati per il nostro lavoro anche quello dei programmatori e hanno rifatto il gioco da zero ma secondo me per me 79 euro no adesso sicuramente lo comprerò quando lo troverò in sconto come ho fatto con quell'altro sì allora platinati non mi ricordo perché l'uno c'era la parte un po' incasinata un po' incasinata e il secondo fa paura assolutamente sì e diciamo eh Carla sono in live vai giù vedi un po' te viene qua fa casino non so io e non saluta neanche eccola che è arrivata guarda che vogliono che corri è inutile che scapi o fai robe strane ma perché devi andare via che devi correre con quel corri allora corri adesso charder charderino amigas allora guarda che corre con te non esce ritardo a uscire perché corre con te quindi ragazzi è tanta roba questa mo arrivi fai un bordello sei troppo imperativa come la Giulia stasera Lord ha sgridato la Giulia c'è anche zio Mario c'è anche Lion grandissimo c'è anche charderino sì dai togliela per il camere e togliela Marco aiuto insondaggio no mica l'avevi promesso sì che la fa fai la sì sono qua sono qua Marco non mi la concentrati oh ho fatto cadere la bottiglia oh amore non è che arrivi e fai bordello siamo in live bisogna fare le cose con calma tranquilli dai tranquilli dai vero raga stacchiamo perché no non puoi correre con quelli mi rompi i joystick no 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 l'altra volta già c'è un po' sgridettato fai togliere i stacchi assolutamente sì assolutamente sì attenzione holly potresti anche morire ok ok perfetto apuros dun 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 ha vinto il sondaggio chi chi cazzo ha muovo tutte le volte mi spacchi un ginocchio va porca miseria che male ha vinto il sondaggio il sondaggio di chi di mio ma come la batteria scarica del pc ma cos'è che mi fate i bordelli che mi staccano le cose ok forse adesso funziona allora ok gli amanti di Tokyo ancora me è appena arrivata la notifica sul video di The Love of the Ring sì davvero forte ok buona 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 metà dopo guarda tutta e casca la liberata sì 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 guardiamola dopo amico mio fai prima la la gara che così Carla poi deve andare sì 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 la vediamo la vediamo chissà che cosa sarà potrò andare a vedere poi andrò a vedere quanti giri di troppi ne ho eh sì 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 dai crealo fai fai un monza dai eh o quell'altra che ti piace la dragon trail dragon trail tre giri va bene amore sì sì dragon trail tre giri mitico sharder metti tu e Carla così non entra altri che se no bisogna stare qua un'ora a far scegliere le macchine Carlin guarda come ti guarda guarda come ti guarda Oli Oli milady guarda Lord saluta Lord ciao Lord vuoi per cammini lì va ciao Marco Marco vi vado a cena un abbraccio ciao Lion grazie grazie del follower e grazie che sei venuto a trovarci dai se dopo non c'hai niente da fare vieni a trovarci ancora ciao amico mio e comunque ci sono anche domani tutto il giorno ciao Lion grazie mille grazie mille mitico ci sono anche domani anche domani tutto il giorno ciao ciao Lion grandissimo ah grande che sei grandissimo grandissimo grazie grazie di tutto ciao 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 Lion allora online multigiocatore lobby dai che mancano due ragazzi a festeggiare 570 amigos follower dai raga dai raga iscrivetevi iscrivetevi allora verifica dell'ambiente di rete in corso ogni volta che fa questo verifica dell'ambiente in corso ci mette un pochito un pochito un pochito perché devo entrare nell'online no ho visto che mi sono fati di cioccolare sì ho visto ho visto penso che l'abbiamo visto ok allora vediamo se il mitico Charterino l'ha già fatta no aspetta ti devo dire una squadra Marco stavo dicendo che per il sondaggio che mi hai fatto fare ha vinto la Ciapparaz ok la Ciapparaz va bene va bene la compriamo la compriamo la compriamo Ciapparaz sì lo so la Ciapparaz Ciapparaz non lo so è una macchina bruttissima però ci sta no no cosa cosa è successo fatta è che fa un po' stupidotto la parte online fa un po' stupidotto ragazzi io non vuole che sia inchiodato si mi spacchi tutte le volte i ginocchi allora lobby che auto le sue anche se anche se tu potresti andare con una 500 500 tu con la 500 e lei con la Honda NSX ok con San Babus ci sta ci sta ragazzi sappiamo che ci sta con il sandinato non c'è magari quindi no 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 allora possiamo fare provare una FXX Carla la FXX non va niente ah azz ah sapevo ma che macchina prova con la 911 ibrida ok prova questa allora proviamo a fargli un giro con questa qui Charger aspetta si vai vediamo con questa macchina era già così è già è già è già questo è la vista coppola frena come è cosa che frena ma anche sei bravissima ma si ma è a destra adesso giri a destra di terza sai che era dopo c'è un pezzettino che fa destra sinistra destra sinistra poi frena no non puoi evitare quei tacchi mi scassi tutto l'altra volta ma hai disintegrato di tappini di plastica eh si amor me le hai rotti me le hai rotti me le hai rotti me le hai rotti faccio adesso il pronostico si dai dai fai il pronostico chi vince no chi vince no il lato lì cos'è che io vado chi è il miglior giro il miglior giro è il pesciato non lo so fai qualsiasi cosa di pronostico perché non ci sta capendo che non abbia nulla allora io devo fare il miglior giro che è 1.38 giusto? sì ma con questa bevi altro che 1.38 se è 1.10 qui farei 1.20 qualcosina credo e qui stai parlando con una macchina da dalle man gas 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 sì arriverai 1.31 1.32 eh beh certo 3.33 allora Carla piace questa macchina quindi ecco la prossima livrea amico mio gli piace la ibrida la ibrida gli piace a mia moglie quanti minuti quanti minuti mettiamo eh fai due minuti fai due minuti perché per la scommessa guarda in alto che ti ho preso tipo i gel per due minuti cinque minuti solo cinque vedrai se le granatine ti tererai oh sta correndo bene Carla oh pronostico io posso farlo io posso farlo no noi no dai ragazzi dai ragazzi giocate i miti coin sondaggio moderatori Pierpaolo grande Pierpaolo ah c'è Pier sì prima c'era Pier adesso non so se ancora dentro perché sai che io non riesco a vedere chi c'è si vota Marco grande grande dai Carla sta correndo eh sta correndo forte non ha sbagliato niente e sta davvero correndo forte eh diamo un attimo il tempo dai tra le cose la pista no mio amor smettila di fare questi tacchi che hai fatto una curva del merda eh non c'entra niente i tacchi hai fatto proprio una curva brutta 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 1.3200 è fatto se l'ultima non freni così tanto prima fai sicuramente meglio non ce li ho i tacchi sono più di nudi sono più di quelle legnate scommettete col pronostico ragazzi dai amici miei dai amici amiche pronostics pronostico pronostico dai 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 scommettete 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 i grandissimi miticoni 30 secondi amici i secondi scorrono i secondi scorrono puoi anche non frenare basta che molli senza toccare il freno anche qua non serve stai correndo te chi cazzo deve correre zero frena questa è una macchina con i freni che i freni sono freni non sono eh no me lo ricordo confido in te grande lord grande lord buttate ragazzi con i miticoin e se non siete iscritti iscrivetevi al canale grandissimi grandi carla confido in te lord vai lord dai 300 300 miticoin che brutta curva finale attenta che vai dentro nel box però hai fatto un tempozzo 1 e 30 dai sharder 1 e 26 dai che adesso uh sharderino 1 e 27 vai gas 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 gira gira prima gira prima ah lord scommetterà su sharder quando corre con me grande lord grazie grazie amico mio io che ti consiglio spill break 3 e spill post di come si chiama i gdr va bene va bene amico mio ci sto ci sto ci sto devo batter sharder allora non frenare vai bravo qui hai guadagnato un botto ma non fuori 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 ma come ci sono io che scommetto per te grazie giulì gentilissima perché se aspettiamo lord l'amico lord sa che mi vuole bene ma scommette sempre contro per spronarmi a fare sempre meglio lo so lo sa in prima frena proprio fermati a prendere un cappuccio ebrioico ma va avanti perché non so come spingi per quello che ti dico che se già spingi con i piedi nudi figurati con i tacchi mi spattasci tutto poi dobbiamo comprare per forza dd pro eh 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 anzi metti i tacchi va ah 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 qui freni a 100 anche 50 si può frenare vai piaschi e tiene sta macchina allora si ah 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 non devi sportellare i muri ah 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 un altro si dai fai un altro fai un altro eh devi diglielo tu poi la gara è solo di tre un altro giretino un altro giretino fredi prima e non fai sta cazzata qui che è meglio vai dai solo giù un po' il gas c'è la frena ciao amici amici di Twitch sta correndo Carla prima di andare dai dai Carla forza Carla stai più a sinistra no a destra ok molla solo non frenare hai frenato vai gira 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 già non toccare il suo piede hai tirato sul piede quando ho tanto giro t'ho visto t'ho visto t'ho visto perché guardo lì guardo lì guardo lì guardo tutto io ma io non so frena come l'animale la coda il gecko è certo che cacchio si vede tutto si vede come fai chiede mi urbane esatto vai vai a vedere eh amor devi abituarti a vedere tutto muola un po' vai 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 gas 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 pieno gas pieno vai vai di gas meno meno bocca più gas qui a 50 eh frena vai attenta 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 parzializza vai parzializza caro lì dalle sberle al pedale non è che parzializza oh ma che tempo ma che tempo vediamo oh quello di prima di sharder adesso ho fatto il tempozzo non devi correre ancora che l'abbiamo visto in 1.27 e cacchio ce l'ha fatto eh no allora è carla è il tempozzo di carla ragazzi sharder ha esagerato ah 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 dai sharderino partiamo partiamo con la garazza garina garazza sonava come l'inizio di un film meno bocca più grande no più bocca e meno gas ma si sta però hai ragione hai ragione è verra sì sì guarda come fila sharder non ci sta cagando perché stava facendo un tempone guarda sharderino guarda sharderino che fa il tempone ragazzi guardiamolo in diretta guardiamolo va come corre sì guarda sharderino ma chi guida adesso carla sta correndo carla maurizio maurizio amico mio stiamo guardando un attimo stiamo guardando sharderino sharderino sta correndo sharder design non ci sta cagando quindi starà facendo un tempozzo da paura vediamo un attimo vediamolo io ho visto che non ha fatto zero errori grande maurizio grande maurizio wow guarda adesso adesso si scrive ha fatto il tempozzo eh sharder 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 molto attento brutto brutto sharderino non è vero non è vero sharder non è vero dai impegnati carla io sono lì anche io sono lì anche io sono lì anche io sono lì eh ma che cazzo è combinata niente adesso va no no sarà uscito il filo no ma si adesso va aspetta tu hai toccato il pad non ha fatto niente vai tu hai toccato il pad io adesso va ok ok adesso va uscite prima voi aspetta ok stacca tutto ci ha un beccato la dingo no 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 vai vai sono uscito arriva la dingo e sei bellissimo allora lasciamo giù il pad perché magari ho fatto casinio perché ho toccato magari un po' il pad e lui ha detto ma sta giocando col pad il mitico Marco Drums Games il mio padrone della console allora aspetta 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 devo fare sul verde mi sono dimenticato scusa sharder partecipo bravo 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 mi sono ricordato adesso che era sul verde 8 7 6 ciao amici e amiche di twitch sta correndo Carla saluta i nostri amici ciao amici di twitch amiche di twitch la mitica robbie da quanto tempo non arriva la roberta c'è la robbie? no non lo so non credo non ho scritto è la nostra amica roberta la nostra amica robbie ci manca forse con la mia amica grazie sharder dai 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 sharder no su 1.27 riesco sharder quindi vai su 1.27 ci stai se devi scendere fai finta di andare contro un muro no 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 esatto la robbie metto la freccia a sinistra metto la freccia attenzione vedi le frecce metto la freccia a sinistra vedi di farla prima giusta ciao jack sta correndo jack sta correndo la mitica bragalion e sharder e sharder design l'accademia ragazzi sta correndo l'accademy di marco drums games e sharder design ma dove metti quel piede dove metti quel piede del freno e qua devi frenare dove metti il piede del freno non devi andare in billeggiatura deve essere attaccato un pedale ciao jack l'hai spostato di là e sei in gara 4 giri dai forza impegno 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 bregali grande jack uh rng thank you so much for the follower grazie rng dai dai ragazzi che arriviamo 570 dai 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 uh dai 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 allora dopo corriamo io e il mio amico sharder design ragazzi dai 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 raga cioè parti la gara per tutti i piedi dai dai impegno impegno devi saper prendere l'emozione della gara e eh trasformarla in cavallo in vapore su pista cavallo in vapore cavallo in vapore cavallo in vapore 50 eh non prima dai 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 gas 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 tanto gas per bregali marco era un botto e che cacchio davvero cacchicchio bisogna lasciarli i botte che fanno follower ma sei sicura che era un botte fatti prescrivere prima poi banali eh fatti fatti lord no pensavo che era un nuovo follower mancava uno a 570 sono rimasto un po' deluso dalla faccenda no mio amore se sposti il piede eh ma era per tenere il coso per tenere il coso te lo tengo io che cazzo fai a spostare il piede dal freno poi ci credo che non freni dai amore dai cioè è corso bene fai la gara è un delirio ragazzi eh dai vai anche meno hai fatto vai fai bene guarda ma che puoi aiutare un cazzo di giro eh amore non ti posso aiutare a parte che non si con le parolacce poi secondo eh cioè vedi la strada dove stai vedendo quattro giri poi stai pensando un giro mica stai guidando normale 54 ahi ho sbagliato la cuba eh ti ho sbagliato tutto due giri due giri che è andato tutto poi devo dire io dove è ma io non so ma chi sta guidando vai dai braga hai scelta dai dal quarto giro non vengono pure hook è Simone 29 frena bravissima così troppo gas dai grande charter che scrive mentre corre grandissimi ciao ragazzi frena frena amore sono 19 grandi ragazzi bravissimi grandissimi amici se volete seguite il mio canale 5 e 68 dai che andiamo a 5 e 70 ragazzi iscrivetevi 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 sta correndo mia moglie Carla e tra un po' correrà anche Marco Dranz abbiamo un'academy se volete correre con noi abbiamo tutta l'ivrea e casco fatti dal mitico Sharder Design che sta correndo insieme a noi Sharder 98 frena 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 non è 50 non è 50 è certo l'ultima da 50 ciao amici amici di Twitch è un bordello stasera si è sconcentrata al primo giro ragazzi al primo giro su 4 andiamo benissimo bene ma non benissimo quindi se volete iscrivervi al nostro canale Marco e Carla corrono quando corre Marco va un po' di più quando invece corre Carla se si ride ci si ride ci si direte vai e senza scassare il pedale del freno perché poi devo comprare il DD Pro anzi ragazzi io gli direi scassa il 923 della Logite e così compriamo il DD Pro ho la scusa per comprarlo almeno concentrazione concentrazione dirlo tante volte ti sconcentra prena ok 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 no problema no problema pensavo che si iscriveva ciao amici e amiche di Twitch benvenuti ragazzi e ragazze dai 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 che sta correndo Carla dai che ti sta vedendo in 30 amore dai 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 forza dai sta correndo Carla ragazzi Bragali grandissimi oh non ce l'ho rossinato vai ti incontri prena prena non devo frenare sono concentrato non ho detto non ho aperto bocca è l'ultimo giro l'ultimo giro ok dai l'ultimo giro frena ciao amici e amiche di Twitch grandissimi grandissime benvenuti iscrivetevi al canale ragazzi dai due persone ancora e siamo ci sono si 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 lo so lo so mica mia e lo so lo so benvenuti benvenuti ragazzi grandissimi 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 e grandissime una forza prima di uscire si dai dai ragazzi una corsettina prima che Carla va e poi ci schiaffiamo online con il mitico share of design se volete correre con noi potete farlo aaaah moris grazie adesso lo leggo adesso lo leggo amico mio sei un grande Maurizio ha ha uuuu che buone che ho fatto brava amici bel baciozzo un bel baciozzo un bel tempozzo ciao non hai visto che tempo che ho fatto ciao ragazzi l'ultimo giro hai guidato bene e mi parla e sconcetti ecco per i mar cioè amo la colpa mia hai fatto schifo tu andare vabbè dai comunque sei bellissima ciao amore mio grazie oh 74 ciao ragazzi grandissimi amici miei come state come state dai riesci a fare un'altra velocissima o devi andare proprio devi andare proprio 74 persone non vuoi dai dai charder fanno un'altra fanno un'altra uguale subito un giro due giri ma subito subito gara subito gara subito gara charderino charderino fanno subito un'altra un'altra subito un'altra subito dai che poi va a carla va con mio figlio a bersi qualcosina e noi giochiamo tutta sera 90 grandi ragazzi dammi il telefono per cortesia che devo ringraziare moris maurizio amico mio ciao stiamo facendo un successo dai charderino dai charderino siamo davanti a 90 nostri amici grandissimi 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 dai dai ragazzi con la mia amigas si scorriamo con las amigas certo certo grandissimo maurizio e maurizio e maurizio grandissimo maurizio ciao amici e amiche amici amiche e amiche di twitch charder design team se volete entrare con noi marco drums e charder design team corriamo abbiamo la livrea il casco e la tuta per correre insieme a noi ragazzi per divertirci faremo un sacco di online un sacco di roba fichissima stasera iscrivetevi al mio canale grandissimi dai che siamo 5.68 due persone arriviamo a 5.70 dai 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 grazie grazie maurizio sei un grande maurizio ringrazio tantissimo tutti i follower di ringrazio tantissimo tantissimo l'amico maurizio e il mio amico moris ragazzi dobbiamo fare delle live fighissime adesso possiamo anche fare la live con il video del mitico moris maurizio dobbiamo organizzare dobbiamo organizzare dobbiamo farci anche una mega gran turismo 7 ciao amici amiche come state come state raga tutto bene tutto sbenus prime non è vero è vero non è vero non è vero grandissimo moris grandissimo moris dobbiamo farci quella roba che ti ho detto dai 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 mio amore è dietro dai 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 te che lo tiri dietro allora tutti i miei social ragazzi quindi twitch il canale che state vedendo oh scusa sharder stai calmo stai calmo sharder sportellatowski un sharderino ha messo il turbo e adesso va da recuperare ma come mai vai veloce così io sono lenta non lo so perché forse sharderino al nos abbiamo capito che sharderino usa il nos come si fa andare così veloce dai perché è andato più veloce in curva ah ok e poi ha preso ha preso una ops più di cento ops ha preso la scia ops ops il mio amico il mio amico Maurizio ha preso la scia di chi tua mia mora la tua scia la tua scia è come un faro abbagliante e tu che mi stai davanti dai 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 scia 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 non è possibile guardalo si ma attenzione che devi frenare qua certo frena era un po' prima però vabbè ce l'hai fatto dai 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 i tuoi fari i tuoi occhi sono come fari abbaglianti e io ti sono davanti ah ah grandi ragazzi ciao benvenuti mitici grandissimi 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 come state come state amici è brava eh brava mia come guida brava 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 Maurizio un sciarderino un sciarderino vai 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 che sbaglia vai che sbaglia grande così si fa grande grande Bregali vai 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 ciao amici ciao amici grandissimo oh è bellissimo dai 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 che Bregali ha fatto il tempo grande grande Carla concentrati dai dos giros spingi Carla spingi vai 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 spingi Carla spingi la macchina spingi sempre più forte Lord è sempre solito frenas 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 vai 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 frenotas ciao amici come state grandissimi benvenuti sul canale di Marco Drums Games tante gare tante corse Formula 1 gran turismo Warzone col mitico Morris e tanti tanti altri giochi roller coaster con Morris tante 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 collaborazioni Marco Drums Killio Lord la community bellissima quindi venite anche oh dai mio amor dai che ha sbagliato dai che ha sbagliato ma non sbagliare più baby non sbagliare più baby non sbagliare più sei tutti dai che vinci Sharder dai che vince Carla dai 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 ciao mi sono confusa i tuoi fari sono come abbaglianti e io ti sono davanti dai 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 frena giusta eh 50 non fare stupidaggini all'ultimo giro baby no 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 vai 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 gas 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 149 amici vai 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 allora l'ultimo anno allora dai dai l'ultimo giro ultimo giro dai 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 brava 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 dai è vincente è emozionante anche la gara ragazzi forza dai forza 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 dai dai vai tranquilla corri bene che lo prendi è lì eh non è non è andato non è andato ma fare queste cose non aiutano no amici amiche del canale di marco drums amici di moris di maurizio grandissimi ringrazio le community di moris eh e gli amici di instagram ragazzi grandissimi è un piacere guidare con una dai 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 tira giusto vai la gara qua con con la con la schade frena do troppo non stai andando a fare la spesa corri corri dai gas grande giuli grazie dai ragazzi vendo anche le magliette i capellini eh e le tazze a cup of tea a cup of tea di marco drums games quella è la bella imparata è quella altra in alto e è questa qui che la stai facendo giusta questa fa però adesso eh voglio la verità caspita per pochissimo per pochissimo amici e amiche di twitch di marco drums games channel che Carla non vinceva ma veramente 7 7 7 10 finito caro un etto va bene dai complimenti bravo bravo davvero guardate la tutta di marco drums brava bravo amore mio adesso mia amica io devo scorrere charder che cosa facciamo che cosa facciamo è vero è vero hai ragione si si siamo bravissimi hai ragione hai ragione hai ragione bravi tutti mi piace vedi anche cioè l'ho perso anzi facciamo una cosa dai facciamo la faccio io la faccio io ciao amore mio ciao amore vieni ciao ragazzi ok grazie grazie è stata grande è vero jack gioco gioco gbr uè grandi ragazzi grandi ciao gioco gioco era una vita che non venivi qui con noi dai charder famo famoci una garetta charderino stessa macchina stessa pista cambia solo il pilota the pilots aspetta 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 che devo mettere si va bene va bene adesso facciamola con questo e dopo cambiamo il tracciato va bene vado avanti a bere grande vado avanti a bere bellissimo ciao ragazzi dai grandissimi la partita è terminata lobby bragani con la nostra squadra si comincia si comincia si corre si corre amici si corre eh amico mio dai 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 che corriamo gioco sei mancato da tanto gioco mi sei mancato amico mio dai dai ragazzi dai ragazzi no allora il problema cinematico di base è che quando faccio ste cose e Carla mi mette il cambio manuale mi lascia il cambio manuale e non va bene perché io devo scalare devo scalare di mio correre così non mi piace non decido io le marce amici aiutatevi allora devo correre con questa ciao maurì gioco gioco grande gioco gioco era tanto era tanto Maurizio che non arrivava gioco gioco a trovarci nella live gioco ci sei mancato amico mio manca Juju manca Giovanni manca Chris ci manca la mitica pronostico 5 minuti scommettete dai 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 pronostico ragazzi scommettete i vostri miticoin chi vincerà ci manca la nostra Roberta la Roby dai che ci facciamo una garetta amici adesso Carla è andata via in macchina speriamo che non fa una una oh charderino quando mette il turbetto eh guarda charderino con questa toyotina dai dai pronostico ragazzi scommettete con i miticoi ma come fa ad andare così forte charder con quel rottamino la charder ma che mezzo hai preso che sai che c'ha 600 cavalli in più mille sacchi ho scommesso allora siete contro di me dai che andiamo a prendere il charder ragazzi purtroppo mi sono dimenticato di mettere le marce manuali ma adesso le vado a mettere perché non mi va di giocare senza marce manuali dai che lo prendiamo dai che lo prendiamo dai che lo prendiamo sento la scia sento il suo scarico anche se quando poi apre di dritto non so come mai va così veloce dai che lo prendiamo dai che lo prendiamo porca miseria che botta ciao ragazzi ciao amici e amiche di Twitch grandissimi grazie 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 di essere con noi che botta ragazzi non ci voleva quella botta non ci voleva non ci voleva ah incredibile tutto sarà contento lord me l'ha tirata lord me l'ha tirata lord eh verdi vedi vedi che me l'ha tirata lord stavo correndo come un pazzo un pazzo un pazzo e la macchina non ha tenuto quella curva lì che si fa quasi in piena quasi in piena ciao amici e amiche di Twitch benvenuti ragazzi ragazze grandissimi grandissime iscrivetevi al mio canale se vi va portiamo tanti bei giochi portiamo giochi di macchine ci abbiamo l'academy potete giocare con noi possiamo giocare con il mitico Maurice Maurizio a Fall Guys possiamo a Roller Champion un sacco un sacco di giochi ragazzi quindi dai che qui le becchiamo qui becchiamo un po' sharder qui è un punto che riusciamo a beccare un po' sharder probabilmente la sua auto non riesce a fare le curve come la facciamo noi anche se con la macchina lì ragazzi è una lippa è giulie lì adesso assolutamente non devo canare questa curva qua ok eccolo eccolo ciao amici amiche di Twitch grandissimi benvenuti iscrivetevi al canale dai grandi porca miseria nel momento gli andavo addosso allora l'unica speranza è quella dopo è quando facciamo destra e sinistra ragazzi l'unica speranza è perché sul dritto va troppo veloce con la macchina guardate cosa fa guardate cosa fa non ci posso credere non ci posso credere 153 amici grandi ragazzi grazie mille grazie mille lo vedo sharder lo vedo lo vedo aspetta 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 no 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 assolutamente no guarda guarda oh sharder scusa scusa ragazzi ragazzi l'ho buttato un po' fuori e sono stato un po' migliacchetto eh dai che qui dai che qua sharder dai 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 beh speriamo gioco gioco speriamo speriamo non è la normalità ma speriamo che sia la normalità la normalità fratellità legalità speriamo speriamo gioco gioco io ti voglio vedere nelle mie live amico mio perché ci sei mancato gioco gioco anche la juju ci mancata la roberta ci manca che un po' di giorni probabilmente io lo so ragazzi che voi studiate anche e andate a scuola e avete un po' di bella sharder è stata bellissima scusami che ti ho toccato dentro un pelino scusa che ti ho dato una botticella però sei un grande sei un grande sharder ci facciamo ci facciamo ci facciamo quella con con l'audi cosa ne pensi amico mio guardate che bella che bella la tuta la tuta di sharder vi faccio vedere amici miei il marco hai vinto tu assolutamente si amica mia assolutamente si ma ti ammazza sei stato un po' dubbio sei stato un po' dubbio sharder sei stato un po' dubbio in quella colpa lì volevi non volevi volevi non volevi guarda sharder cosa riescono a fare hai visto che bello guarda in in coso sono contento grazie gioco gioco ti voglio vedere ti voglio vedere qui da noi gioco ok dai 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 bello bello ma che cosa riescono a fare le targhe le note quante robe riescono fare i ragazzi guarda che bello questo qui sharder la n6 bello 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 allora vi faccio vedere amici miei mentre sharder fa la pista le macchine dell'accademia bellissima la macchina dell'accademia ragazzi bellissima 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 dai sharderino fai la pista che andiamo subito a correre e questa è la formula 1 dell'accademia ragazzi certo certo assolutamente sì l'amico maurizio l'amico maurizio amico mio guardate che bella ragazzi che bella la livrea che è del nostro gruppo accademia di gt accademia marco drums battuta fuori quella battuta fuori di sharder eh sì la livrea la livrea della formula 1 della formula 1 nostra della nostra accademia ok ragazzi e potete scaricarla potete giocare con noi questa qui è l'altra è la nostra macchina questa qui è il casco e questa qui è la tuta è la tuta sharder questa qui invece è la subaru BRZ dell'accademia quindi tutte le macchine quello che vi ho fatto vedere adesso sono quelle dell'accademia e questa invece è la mitica macchina della varco drowns games channel allora sta aspettando sharderino che fa la lobby l'hai fatta amico simalord il furbino grazie maurizio grazie di tutto grazie di tutto amico mio grande grande buon lavoro e ci vediamo ci vediamo presto sia per far qualcosa che anche per sentirci tra di noi amico mio grazie grazie di tutto grazie 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 ciao 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 maurizio ciao maurizio allora il mitico sharderino l'ha fatta non l'ha ancora fatta facciamo una cosa una cosa bellina allora mentre sharderino la fa ciao maurizio ciao maurizio grandissimo allora io vi faccio vedere questa masca si il casco l'avevo già visto l'avevo già visto sharder intanto che tu prepari la lobby faccio un giretto l'hai fatta già allora scusami un secondo che ormai ero qui facciamo un girettino di due giri giusto all'autodomo di monza per far vedere la miura ok giusto due minuti sharder scusami perché non avevo capito che stavi facendo la lobby così almeno agli amici che sono rimasti dentro vi facciamo vedere una macchinetta fatta bene questa è la Lamborghini miura che è un po' esatto esatto stavolta non lo sportelliamo guardate che bella che è la miura da dentro allora va dove vuole lei e non frena va dove vuole lei e non frena bellissime queste macchine di una volta che auto era questa è la miura mamma mia ragazzi che rottame certo è preparato mica cazzi eh sì eh sì hai ragione hai ragione hai ragione hai ragione ciao amici miei grandissimi mi raccomando iscrivetevi dai ragazzi due follower e siamo a 5 e 70 aia che botta mio dio ragazzi è così impossibile correre questa macchina è una cosa si era in sconto a 3 milioni e 4 orca miseria mamma mia ragazzi voi non potete capire quanto non tiene la strada sta macchina vediamola da dentro dai ciao amici e amiche di twitch mi raccomando iscrivetevi al canale ci facciamo delle gran giocate insieme mamma mia sta macchina non sta in strada ragazzi sì ma questo qui ma quanto va 20 al 9 ora prendo quella porsche ma quale quella è la 3 milioni quella porsche è bella quella porsche è bella sì ciao amici amici di twitch grandissimi benvenuti benvenuti benvenute iscrivetevi al mio canale ragazzi dai 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 che ci divertiamo il canale del drago il drago arrabbiato eh sì penso che era quella però era quella che volevamo anche io e te sinceramente quindi non lo so non lo so se vuoi farla carla sì ciao manuel cadde manuel ciao bello come stai amico mio ho preso sta biura manuel che veramente è un è un io tutto bene amico mio è un disastro questa miuras per far due giri mi sta smiurando carla carla tutto a posto si si manuel grazie grazie mille gentilissimo era qua prima che stava correndo e dopo adesso è andato a fare un giro con mio figlio Vittorio sono andato a farsi un giretto a bere un cognac è andato a farsi un giretto e era prima qui con noi era prima qui con noi manuel grandissimo io ti aspetto manuel adesso le scuole sono finite tante cose c'è un sacco di giochi un sacco di cose da fare ragazzi amici miei quindi vi aspetto tutti i giorni quando volete io sono qua sono qua insieme a voi grandissimi vediamola da fuori sto capolavoro dell'ingegneria lamborghiniana e andiamo a correre con Scharder andiamo subito a correre con Scharder Design con l'Audi ho comprato una mega Audi ha fatto una mega livrea e amico mio assolutamente sì anche noi aspettiamo il Formula 1 2022 domenica farò la stessa gara alle due del pomeriggio che fanno anche loro in realtà quindi vi aspetto tutti domenica yes guys ce l'hai l'Audi? se c'hai l'Audi sì se no entra dentro e facciamo la gara dopo manuel facciamo un'altra gara dopo di quella lì perché stiamo tipo da una settimana provando a correre con l'Audi e non ci riusciamo perché chi entra dentro non ce l'ha magari ce l'hai magari ce l'hai prova a vedere se ce l'hai adesso ti dico che Audi è ah scusa scusa pensavo adesso assolutamente sì manuel scusa scusa pensavo che stavi dicendo adesso adesso se no se c'avi l'Audi potevi entrare comunque sì 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 assolutamente sì assolutamente sì facciamo lobby su Formula 1 2022 ragazzi perché è un altro gioco che io voglio portare veramente veramente tosto veramente tosto ecco ci siamo pettinati abbiamo visto questa miura bellissima e possiamo anche andare a giocare online grande la livrea di Marco Drums che è bellissima la miura ho già detto che esiste oh davvero ah manuel caspita eh non me lo ricordavo me lo ricordavo manuelito 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 non mi ricordavo di questo sì 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 credo che me l'aveva detto l'altra volta però manuel è anche lui qualche giorno che manca dalle live eh amico mio dai 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 uh dai dai che tanto Formula 1 ragazzi è qui eh cos'è che esce a fine mese il 28 siamo il 10 18 giorni ce l'abbiamo due settimane giochiamo al Formula 1 ragazzi quindi non facciamoci problemi anzi anch'io dovrò disinstallare un sacco di roba raga perché eh Formula 1 mi sa che richiede un botto eh allora la R8 LMS EVO del 2019 ok raga Warzone che mi occupa spazio allora eh sì eh sì Warzone ci sta ah sempre questa pizza pizza pasterella pizzarella pazzerella ah non mi usciva ragazzi non stavo scherzando non mi usciva il pazzerella ahimios dios lusseu ah sì proprio questa sharder vabbè dobbiamo imparare the show must go on impariamo con questa bella pisterella dai allora questa è un po' allora questa Audi è come le lambo è bellissima eh beh Manuel ci manchi devi venire di più devi venire più spesso amico mio devi venire più spesso anche se non giochi stai qui insieme alla nostra chat ai nostri amici che è una figata eh ti aspetto ti aspetto eh sì Warzone è tanta roba io sicuramente comprerò anche il Call of Duty quello nuovo ragazzi e quindi poi quando sarà il caso porterò anche il Call of Duty quello nuovo grande grande Manuel si sai che io sono tutti i giorni tutti i giorni poi adesso che arriva il weekend anche il pomeriggio dalle 3 alle 6 sia sabato che domenica anzi domenica addirittura le 2 che porto il formula 1 stessa gara stessi giri della gara quella quella reale quindi domenica ci sarà un bel tour de force di un'ora e 40 di gara anch'io anch'io lo compro possiamo fare un bel team su Call of Duty Manuel sinceramente possiamo comprarlo e giocare insieme possiamo davvero fare un bel team anche su Call of Duty perché quando giochiamo insieme è tutto più più divertente sinceramente come sportello dove c'è non c'è Shard dietro Lord mi vuoi distrarre ho già capito io sta cosa qua tra te e Shard che mi fate distrarre ci ho lì arrabbiatissima ok perfetto si diciamo che io questa settimana Manuel proprio non l'ho fatto è un po' una serata strana settimana strana volevo fare anche il farming simulator poi alla fine io e l'amico Shard abbiamo deciso stasera di fare il Gran Turismo e la Giulia sta scrivendo cose no 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 mamma mia sta pista con l'Audi allora farming ti deve piacere i mezzi ti deve piacere i mezzi perché io mi faccio anche sessioni di non so tipo un'ora a caricare balle di fieno col muletto col manitù sui mezzi quindi se ti piace un po' i mezzi le metitrebbie i trattori diventa veramente un gioco spettacolare se non ti piace tanto quello chiaramente è un gioco noioso come dici tu chiaramente perché non è di certo allora in realtà devi capire la meccanica una volta che capisci la meccanica è fighissimo il farming simulator poi ci sono tanti altri che sono veramente più macchinosi del farming infatti per quello che volevo anche portarlo perché io ci so giocare parecchio e ha riscattato bevi non ho nulla da bere quindi non c'è neanche nessuno che mi dà del bere quindi adesso vediamo un attimo se riesco andare a prendere una bottiglia d'acqua di qualcosa perché qui non riesco manco a fare un giro ma Shard sta correndo e beh certo poi dipende da uno come mi piace giocare a me sinceramente ti dico la verità mi piace un po' giovedì ho portato Spielforce 3 che è un gioco GDR tipo un po' Age of Empire è un po' un mix in realtà e mi sono divertito un bordello solo che probabilmente non piace tantissimo e non c'era tanta gente eravamo una ventina insomma a me piace un po' di tutto quando voglio rilassarmi vado su giochi tipo farming simulator caspita scosse tutto bene Giulia non è robe grosse robe piccoline mi raccomando mica mi avverti perché allora sono due secondi ah ok perfetto sono due secondi sopra sharder quindi non diciamo che caspita diciamo che beh se sono di assestamento fa nulla no raga tanto dovreste essere abituati l'importante è che non sono forti che fanno disastri e fan venire paura l'importante è quello anche le scorse se ci vogliono c'è stato proprio di tutto e sharder con l'audi sinceramente mi sa che addirittura no dai ah ragazzi 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 con quest'audi non ce la faccio prossimo è una macchina che non sta nelle mie corde l'audi devo imparare anche a guidare perché non è che c'è una macchina che sta nelle corde ho lì ho lì boh boh eh infatti 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 amico mio ho fatto su un disastro lì ho lì ma perché c'è gli altri cani ragazzi allora ci sono gli altri cani fuori e diciamo che la mitica Oli va fuori a far bordello si va a far sentire perché anche lei è arrabbiata è arrabbiata come il drago anche il drago è arrabbiato eh niente ragazzi questa pista e questa macchina non riesco a capirle non riesco a capirle mi sa che la mitica o la via mi sa che la vico scharder ci fa a strisce su sta macchina e su sta pista guardalo 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 dai ma ho solo frenato insomma vabbè Marco Drums non si arrende mai corriamo dai corriamo io ho già un pronostico senza farlo lord giuli che eh beh eh beh è un po' come la frena è un po' come la non lo so se è GR3 Kevin è la R8 è un po' come la la Lambo è uguale alla Lambo quando freni sotto sterza e sovra sterza è un disastro tenere in strada ma la console te l'hanno data Kevin quanto tempo ti fanno aspettare per sta console in riparazione è una stupidata hai qualcosa per l'Audi si si Kevin si perché è un disastro grazie Kevin alla console Kevin cosa ti hanno detto madre di Dio provate fatemi sapere ok l'hai già condivisa dov'è il telefono allora ora allora 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 facciamo il settaggio di sta macchina perché è così non ce la fa non ce la fa non ce la fa fa troppo schifo fa troppo schifo dov'è che l'hai messa kevin a grandissimus prime allora ragazzi state qua con noi è allora ragazze allora vai marco cosa scritto mi rispetti aspetta allora giuri vai marco canta una canzone no grazie amico mio grazie grazie amico davvero davvero di cuore grazie amico mio allora allora settaggio 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 prima di tutto stai calmo non ho le morbide benissimo benissimo allora 60 allora aspettate un secondo ragà ai ai caramba ai ai caramba allora 65 poi 77 aspettate ragazzi che sto facendo il settaggio del mitico che vi vediamo un attimo allora 35 33 45 45 ciao amici se volete anche voi un settaggio fatto bene di questa audi lo sto facendo adesso lo sto provando ragazzi è quindi solo un po di pazienza intanto chiacchieriamo perché voglio davvero avere un settaggio che funzioni su sta macchina perché non riesco a stare in strada sembra quasi che ho iniziato ieri mattina a giocare a gran turismo quattro ERF 6,50 6,50 è il massimo 96 ah tra l'altro io ero pure depotenziato ragazzi bellissima allora zavorra 66 meno 45 bella raga tanto settaggio 100%, 2,80 ah che bello azzarola anche le marce allora io non ho due cose fondamentali che arrivo subito Kevin non ho due cose fondamentali per questa macchina non ho la nina nana deve uscire dal cuore quindi quando qualcuno mi dirà buonanotte anche per finta partirà automaticamente la nina nana cambio tracciato no 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 puoi anche lasciare questo amico mio fammi solo comprare perché voglio provare appunto il settaggio che ci ha dato l'amico Kevin voglio provare prima di tutto con gomme morbide perché non ce l'avevo e poi il rapporto di corsa esattamente esattamente perché poi la dobbiamo usare se non ho le gomme è difficile anche a me io ah vuoi cambiare quindi pista va bene dai dai cambiala cambiala vado a provarla un attimo a monza cambiala poi quando fai la lobby me lo dici Sharder ok buonanotte buonanotte angioletto tu che adesso vai a letto ricorda le parole di Marco Drumsgin's channel quando ti dice dormi angioletto nel tuo letto pensa a lui che è qui a correre per tutti voi corre lui guardate ti fate voi ti aspetterò domani alle ore 15 andiamo a correre in Sardegna tra i monti le pecore e gli iglu ci sei tu ci sei buonanotte angioletto buonanotte fagottino pensa a quanti Marco Drums ci sono nel mondino ce n'è solo uno che tu dovrai seguire anche di notte mentre dormi seguimi su Twitch e Youtube e TikTok allora ragazzi non è cambiata la sega nel senso sta macchina va schifo uguale non mi sembra un cambiamento epocale effettivamente alla fine sono sono un po' caduto nella liturgia liturgia penso le marce non le ho cambiate amico Kevin dici che fanno tanto le marce ma dai Lord la bellissima qui sono tutte canzoni inventate al momento ma manco manco i beh fammi vedere perché lì avevo fatto un po' la curva a minchie cioè a linken forse forse con le marce allora già frenare non fa più cose strane a regola eh vedi Giulio io faccio le cose belle le canzoncine carine iper mega personalizzate e Lord mi dice che fanno schifo eh eh è Lordino non si dice non si dice così non mi sembra male fammi vedere un attimo Kevin quando vado a frenare eh perché poi si hai ragione le marce ma le marce sulla frenata non dovrebbero eh si Lordino dice che ero tipo un prese alla fine un po' un po' no 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 che fanno schifo non l'ha mai detto mai 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 e poi mai non è malvagia non è malvagia Kevin eh non è malvagia ti dico la verità allora assetto per l'Audi R8 ragazzi se vi può interessare lo pubblicherò poi su YouTube porca miseria forse se ci mettiamo dei freni che frenano un pelino in più magari va anche di più dai dai beh non è male adesso voglio riprovare sulla stessa pista con l'amico Scharder a vedere un po' con l'amico Scharder con l'amico Scharder assolutamente grazie Giulie e visto che sabato domenica all'orario delle due porterò Formula 1 2021 con la stessa gara che fanno anche in live ma non nella mia live live nel senso in Formula 1 reale non so domani pomeriggio se portiamo Gran Turismo perché lo volevo portare domani sera Gran Turismo oppure facciamo magari farmi il simulator domani non lo so non lo so non è male l'assetto non è male Kevin non è male non è male assolutamente assolutamente adesso voglio provare ad andare nella lobby la macchina è questa ragazzi Marco Drums Games con le livree ed è bellissima fatta dall'amico Scharder Design ok andiamo a prendersi un po' di soldini perché comunque servono sempre Lord mi ha detto bevi ma non c'è al bere quindi si dai farming ci sta ci sta eh Kevin ci sta domani dalle 3 alle 5 alle 5 e mezzo alle 6 poi vediamo un attimo facciamo un po' di farming simulator io direi che ci sta dentro ci sta dentro possiamo farla possiamo vedere con gli amici ma è avviato su Xbox sai che non lo so vado sul cellulare esco su PC ok ok bisognerebbe provare Lord sai se si può fare Kevin mi fai la cortesia di andare a vedere se c'è il cross come si chiama lì il cross tra piattaforme cross platform cross gen cross che cazzo ne so cross qualcosa PC cross se può giocare il mitico Lord da Xbox con noi con la play si stai scherzando lord lord sei stanco vuoi accendere la console che alle 11 quando spengo qui proviamo a vedere se possiamo farlo solo controllare se riusciamo a giocare insieme non giocare proprio che se sei stanco devi andare a letto rispetto il tuo volere domani pomeriggio per farmi ci sono la sera no ci sono la sera invece ah ok ok ci sono il pomeriggio la sera no cacchio Sharder va bene va bene amico mio però ci dovevi essere anche alla sera va bene va bene allora 280 ci siamo allora 122 ah 122 è meno ma che stai a fa Marco allora vediamo un attimo 580 ok ho visto che si può fare ok io non ho visto l'amico se vuole provare una scappata adesso quando staccheremo la live e quindi se lo mettiamo di pomeriggio sarebbe meglio ma che cosa vuoi portare di pomeriggio Sharderino scusa che mi sono perso vuoi fare pomeriggio farming farming dai facciamola farming pomeriggio va bene va bene ci sto io ci sto ragazzi faccio anche le grafiche dopo eh io adesso voglio provare con il mitico lord se lui mi dà l'ok ha finito qui proviamo solo un secondo a vedere se riusciamo a fare la lobby insieme così faccio le grafiche che poi c'è anche lui ok ragazzi ho fatto tutto hai scaricato alcune mod sì sì assolutamente sì ma possiamo fare allora o mi date una mano a fare il mio campo che è già avviato ok ragazzi quindi mi date la mano a fare gli incarichi oppure ne facciamo uno nuovo quindi ne possiamo fare uno tranquillamente nuovo ah hai cambiato pista cacchio io volevo vedere con quella là a sharder vabbè c'hai le mod sì anch'io le installate e bisogna vedere lord ma tanto quando quando vai ti dice che mod installare poi ci vuole un secondo davvero installare le mod credo che sia la stessa cosa anche per xbox io ancora lord non l'ho sentito va nettamente meglio nettamente ah lord ha detto di sì va per leggerti giuli sono andato fuori come un calabrone va bene va bene allora di lì già di accendere la console perché alle 11 smettiamo ok a posto a posto ok grande grande Kevin grandissimo grazie va benissimo l'assetto eh comunque adesso voglio vedere se va forte adesso non so se l'amico sharder ciao amici amiche di twitch mi raccomando iscrivetevi dai che arriviamo a 570 follower ragazzi dai 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 mancano due persone dai iscrivetevi cacchia rola ho sbagliato la curva iscrivetevi al canale amici miei amici amiche dai dai grandissimi allora prima madonna in prima è troppo lenta in prima è davvero troppo lenta raga poi bisogna bisogna che installate file guy file guy se mi sembra si chiami si raga così facciamo una bella partitella una sera tutti in party a divertirci a quel gioco lì che è uno spettacolo facciamo una bella live divertente a file guy raga lì tiene un po' poco eh tiende un po' porca miseria la zanzara si 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 l'hanno regalato col plus anche basta scaricarlo sulla play allora come riferimento 1 e 28 143 però non ho visto l'amico sharder correre vorrei avere riferimento anche suo si lord grande dai dai non so quando lo facciamo lo faremo in settimana eh ci organizziamo una sera che ci siamo tutti così possiamo entrare nel party e divertirci a quel gioco dove devi buttare giù le cose si bravo lord avvialo così bisogna cercare di capire come si fa ah ok ok no pensavo che non lo conoscevi e neanche roller champions eh mi piacerebbe giocare con te a roller champions che è quello lì dei pattini è veramente divertente allora ancora un po' di di sottosterzino ma è tanta roba grande attori veri ma che farmi mi hai visto giù farming simulator ci sono i trattori ci sono elementi trebbie ci sono i muletti il gioco tu dici il filmato iniziale si hanno sono comunque non sono filmati sono sono fatti a computer e il papà e il papà e la figlia dell'inizio bellissimo hai visto proprio un'azienda familiare oh cazzarola sta curva qui è terribile ciao amici e amici di twitch a me è sembrato l'attore quello ma ma l'attore chi magari è un attore vero non credo che farming abbia speso tanti soldi per far fare un attore vero tre minuti di intro iniziale però potrebbe anche essere ma se mi sgami il nome dell'attore non credo Di chiaccarla mi ha spaccato il pedale del freno, prima. Scena iniziale, sì. È fighissimo, eh. Ma Sharder non ho capito se sta girando o se sta ancora settando la macchina. Leo? Allora, vediamo un attimo se Sharderino... Vado a prendermi da bene, raga, un secondo. Vado a prendermi da bene, raga... Vado a prendermi da bene, raga... Vado a prendermi da bene, raga... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, Giulie, grazie, Giulie. Sono andato a prendere l'acqua così riscatto il baby del mitico Lord. Vorrei capire, Lord, come si trova. Ma mi aspetti adesso, quando finiamo la gara? O come? Giochi un po' a farming? Mi aspetti? Ci sentiamo un po' su WhatsApp? Così proviamo a vedere se riusciamo a entrare a fare questa cosa. O se no possiamo provare anche domani mattina, Lord, come vuoi tu, come vuoi tu? Io la gara con Sharder durerà ancora fino alle 11 e un quarto, 11 e 20, eh? Dimmi tu se vuoi farla o cosa fare, ok, amico mio? Ok. Ok. Ok, facciamo domani mattina, Lord, cos'è almeno vado avanti a giocare un po' con Sharder? Non facciamo le cose di corsa. Domani mattina ci sentiamo su WhatsApp e vediamo se riusciamo a fare, eh, sì, e vediamo se riusciamo a farlo. Grande, grande, Lord, va bene, ci sto. Allora, Kevin mi dice, eh, no, eh, Sharder mi dice che, eh, è buono ma non riesce a fare il tempo. Sì, sì, facciamo con calma, Lord, perché anch'io sinceramente so stanco, quindi... Ok, dai, dai, dai. Allora, Ok, grazie, Kevin. Allora, allora, buonanotte, Lord. Ah, stai a lavoro tu, grandissimo. Sì, 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 perché da ogni pomeriggio si fa una mega, una mega live. Raffanbrodo sta macchina di merda. No, no, no. è la faccia che non riusciva a fare i tempi grande giulì grazie dai 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 ciao amici sto correndo col mitico sharder oh io sta sta audi non riesco proprio a digerirla fa che roba fa quanto ci mette vediamo se riusciamo a beccare l'amico sharder ai frena porca miseria va quanto mi fa frenare sta macchina incredibile raga ma che roba non gira la faccia che non riesce a fare i tempi sharder madonna come viaggia ragazzi va che roba va che roba raga non riesco a gli ho fatto fare anche la livrea di sta macchina sharder ma perchè gli ho fatto fare la livrea dai non frena più non gira giulia non gira non frena e se vedi bene sharder davanti va al doppio ciao amici e amiche di twitch benvenuti ragazzi e ragazze marco drums games e sharder design gt academy l'accademia di marco drums games e di sharder design sta correndo per voi se volete entrare potete entrare nella nostra accademia fate una bella iscrizione al canale e ci vediamo poi passandoci lì di playstation niente è proprio è proprio volato via sharder guardate all'inizio pista allora è volato è volato ciao ragazzi e ragazze vi raccomando iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto grandissimi dai che arriviamo 570 grazie giulia grazie giulia grazie giulia grazie giulia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di andare forte e non andare a sbattere. Porca l'ho appena detto. Allora, non perdona nulla quest'Audi. Due metri di... C'è, l'ho appena detto Giulie. E' incredibile. E dai, non è male. Mi sto prendendo bene. Comunque Carla, prima mi ha dato tre legnate forti al freno. Adesso... Sta gracchiando. Speriamo bene che non mi ha scassato il volante. Eh, sì. Sì. Proprio... Tre, quattro legnate fatte bene. Adesso sta gracchiando. E fa un po' cose di cose strane. Però... Non vorrei che ci sia smollata la molla. Perché è un conto... Ti tirava via il piede come se stava guidando in autostrada, non so io. Vabbè. Eh, Sharder... Non ha ne... Oh, è andato... Chi lo trova più... Sicuramente lui è... Esatto, esatto. Sai che... Mi hai letto nel pensiero, amico Kevin? Sto... La mia testa non era a finire la gara, ma era andare a vedere su Amazon il prezzo del DD Pro. E usarlo come scusa, così. No, ha tirato un pacco di slack. Senti, eh. Ha tirato un sacco di slack. Che bella lì, bella lì... Sharder. Bella gara, bella gara, amico mio. Non... Non... Allora, se vuoi fare un'altra si può anche fare, eh. Dimmi tu se vuoi andare a letto. Se no possiamo farci un'altra garetta. E poi stacchiamo. Se devi andare a letto mi faccio una Sardegna. Dimmi tu. Domani facciamo vedere la farm alla Giulia. Però, allora, cambiami la pista per cortesia. Fai quella di prima. 855. Fammi vedere. Un'altra gara... Un'altra gara... Un'altra gara... Un'altra gara... Grazie. Aspetta. Aspetta. Dimmi quando hai fatto la lobby, amico mio. Allora, c'era una info, una qualcosa che mi portava a un link diretto appunto del Fanatec. L'altro giorno, giusto, giusto, è arrivata questa cosa qua. Ciao amici e amiche. Scusate un secondo, sto aspettando l'amico Sharder che fa la lobby e sto andando a vedere il prezzo del Fanatec DD Pro. Scusate un secondo, sto aspettando l'amico. Un link diretto. Facciamo Formula 1, va bene? Ci sto. Ci sto. Io la livrea non l'ho tirata giù però eh. Mi mandi il link per piacere che non lo trovo? Perché forse tu stai vedendo quello... quello... Da vicino la vista. Questa. Ma quale... quale Formula 1 è? Perché io ho questa eh. Aspetta, fammi vedere qual è. Vi puoi mandare il link per piacere grandissimo Kevin? Perché non... non lo vedo io. Anche se scrivo Fanatec. Non vorrei che sia quello tedesco e non quello italiano sinceramente. E' la Honda. Eh. Speriamo che io ho la Honda. Ma dove sarà mai sta Formula 1? Formula 1, Formula 1, Formula 1, dove sei Formula 1? Io... Io... Io non la vedo assai. Con 444 auto non la vedrai mai. Poi... Un momento si la vista. Eccola qua. Che bella questa macchina. E' proprio una Ferrarina della Honda. Però per quale motivo non la vedo. Pensare che c'ho dieci cinquecento. Eccola, eccola, eccola. Eccola. Andiamo. Allora. Allora. Non c'è nulla Fanatec su... Non c'è nulla Fanatec, amico. Kevin. C'è solo il Thrustmaster TS. Ma io il Thrustmaster non lo voglio. Voglio Fanatec. faccia da spiare. un palazzo. Grazie a tutti. 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 Poverino, non c'entra niente lei però, sono cose che succedono. È un po' scrichettoso, non è che è rotto, però gli ho dato dentro 3-4 cannellate fatte bene, che non li fanno di certo bene a roba di plastica. Eh sì, grazie a tutti. Grande, 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 domani, no? Ti carico il muletto Col muletto ti carico il trattore Dai Ma qualche macchina sta cuorendo Madonna come tiene la formula 1 raga Il problema di andare con la formula 1 Che dopo si devono andare con le altre E si ha la sensazione che Che tiene E invece non tiene una sega Dopo le altre Madonna che roba Senza frenare tutta in sesta Cacchiarola Ero in tutto viola Cacchiarola Che bello Che bella sorpresa Giulia Grazie Grazie amica mia Grazie Lord Ciao 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 Giulia Buonanotte Buonanottina Allora domani Ci spariamo Trattori Carretti E cose insieme Dobbiamo per forza farla funzionare Insieme all'amico Amico Lord Speriamo di farla funzionare Perché quelle cose lì Che sono un po' Un po' Playstation Un po' Xbox È un casino sinceramente Però dai Ci proviamo Ci proviamo Domani ci sentiamo su Whatsapp Così ci mettiamo d'accordo Quando riusciamo a fare la pre-live E dopo E dopo facciamo Grazie amica mia Grazie davvero Sì 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 È bello Farming è bello Perché Sinceramente È proprio di trattori Di Di seminare Di conoscere la terra Di mezzi Capito Buonanotte amica mia Sai Fai La buonanotte Anche All'amico Lord E se aspetti un secondo Ti dedico una canzone Buonanotte 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 amica mia Questa sub Me la sogno Anche di notte È un gesto Molto bello Di amicizia Amica mia E salutami Il tuo Lord Ah sì Di brutto Di brutto Grazie Giulie E ti ho cantato anche Una canzone un po' liturgica Sinceramente Sto andando un po' In quel verso lì Ultimamente Con le mie canzoni Però Ci potrebbe anche stare Una parte Esatto Una parte Spirituale Di Marco Drama Games Channel Che c'è in tutti noi Ciao amica mia Qui intanto Ciardellino È andato a farlesi Un giro Nei boschi Dai ci vediamo domani Giulie Buonas noces Vai a dormire Che Se perdi il sonno Poi Ok Possiamo cominciare Amico mio Ciao ciao Giulia Grazie Grazie mille Ciao 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 Anche Olivia Qui che dorme Ti ringrazio Grandi 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 Quella lì Raga E cominciamo Cominciamo Dai 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 Facciamo questa Ci salutiamo ragazzi Facciamo questa Ci salutiamo Dopo vado subito Immediatamente Scaricare la livrea Corse Che non ho capito Per quale motivazione Non L'ho scaricata prima Porca loca Non l'ho mai fatto così Prima Quando mollavo L'acceleratore Adesso c'è Tipo girata L'acceleratore Ciao amici e amiche di Twitch Grazie a tutti Grazie a tutti Oh raga sei giri sono lunghissimi Come fischia il turbetto raga 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 Ma non c'era neanche stasera Kevin? Non c'è tutti i giorni no? Non lo so io la prima avevo già visto A parte il gameplay di Alien E un pezzo di gameplay di Call of Duty Che vabbè lo prendo Ah C'è tutti i giorni no? Mi sembra Io volevo fare una streaming della conferenza Però ieri sera Non sapevo che Facciamo vedere Call of Duty Quella roba lì Vabbè non l'ho cagata Poi stasera Non mi ricordo più che cosa facevano Tu sai che cosa hanno fatto stasera? Che domani se dici che c'è roba interessante Potrai vedere gli orari E vedere un attimo Se magari fare una streaming In live Su Ma è sol Ah ok Domani sera è interessante Che orario? Alle 8? Alle 7? Ok 7 è fattibile Ascolta una cosa Kevin Ma tu Il link diretto di Amazon Per il DD Pro Me lo puoi passare? Perché io su qua Amazon Italiano Non vedo DD Pro Eh grazie grazie Se me lo mandi Adesso appena finisco Vado subito a vederlo Perché Non lo so Mi ha tirato tre legnate prima E adesso fa casino Si lo so Bellissimo Se costava 29 euro Lo compravo 79 no 79 no Anche se l'hanno rifatto completamente Si paga Il lavoro della gente 79 come gioco nuovo Anche perché io quando faccio un gioco Lo platino O comunque se arrivo quasi al platino E ricominciarlo mi scazza tantissimo Infatti ho comprato anche The Last of Us 2 No 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 Ma si ma tanto basta aspettare qualche mese E lo metteranno 19 6-7 mesi a Natale Quella versione lì la metteranno 19 euro Sullo store 19 lo compro subito No sinceramente 70 Pensavo che la facevano pagare meno 49 ti dico la verità Quando ho visto 79 Anch'io che sai che No 79 no 79 va bene per uno che non l'ha mai fatto Per uno che non l'ha mai fatto 79 euro Però ci stanno tutti Per uno che ha già comprato La versione normale La versione remastered La remake No domani E domenica Summerfest alle 19 Ok Però domenica Domenica poi mi faccio Formula 1 E poi vediamo magari di fare una live Appunto per Per il festival Ok E Marco Drums vince Bellissima gara Sharder Davvero 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 Bellissima gara Mi è piaciuta un sacco Con questa macchina riesco Con quell'altra assolutamente no Andiamo subito immediatamente a scaricare la livrea Perché non voglio Poi mai più andare in giro con Anche se questa è quella della Ferrari Che mi piace tantissimo Ma Voglio assolutamente cambiare la livrea Mettere la nostra Ringrazio Giulia Lord Xbox e Bedesta Eh quella Quella sì Allora Kevin Se ci sei Te lo dico io qua Ah Grandissimo Sharder Se ci sei Possiamo fare La live ragazzi Anche te Sharder Se vuoi Vi do il link Di un programma Che si chiama E lo potete anche Possiamo streamare Nella conferenza di Microsoft Tutti insieme Si chiama Aspetta che ve lo dico VDO VDO Scatti perché sono Sono video presi Da YouTube E Eccola qua Accademia E la facciamo insieme Possiamo anche commentarla Sarebbe veramente una cosa figa Secondo me La commentiamo tutti insieme Madonna che bella Madonna che bella Che bella ragazzi Tutto Il Ah c'è anche il casco E la tuta Casco e tuta Che potete usare Per quando giocate con noi All'accademia Allora 568 iscritti Ragazzi dai dai Caspita ne mancano due Amici miei Io sono Veramente Stanco Chiudiamo Con Queste cose Fighissime Che ha fatto Sharder Veramente Veramente Figa E Loki Drift Grande Grande Sharder E' bellissima E' bellissima Bellissima Sì Bellissima Davvero Ok Anche la tuta E anche il casco Tutti nella mia raccolta Quindi Qui ti ho messo Piace All'occhio Ho messo Mi piace E questo E' nice LR Perfetto 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 Va bene ragazzi Anche Questa Sharder Bellissima Bellissima Anche questa sera Abbiamo Fatto una live Fighissima Ti ringrazio Sharder E Kevin Ringrazio Tutti quelli Che sono stati dentro Ringrazio A Morris E a Maurizio Per la mega Bottata Di gente Che mi ha portato dentro Grazie ragazzi Grazie Amici di Instagram Grazie A Tutti voi Ci vediamo domani Ore 15 Più o meno Poi vediamo Per Con Farming Simulator Domani faccio Le grafiche Anzi adesso Magari faccio Le grafiche Così facciamo Un po' di pubblicità Alla giornata di domani Ti aspetto Kevin E poi vediamo Un attimo di vedere Quella cosa Per la Bedezda Che se domani Sharder è a casa Kevin possiamo fare Una prova A metterci tutti insieme In OBS Vediamo di fare Una live Con un sacco di cam Che sarebbe Fichissimo Fichissimo Vi ringrazio Vi ringrazio E ci vediamo domani Ciao a tutti amici Dal vostro Marco Drums Games Grazie Andrea 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 Ti ho visto adesso Andrea Amico mio Stavamo giocando Stavamo giocando Andrea Stavamo giocando Ho finito di fare Ho finito di fare L'online Ho finito di fare L'online amico mio Sei arrivato un po' tardino Ma domani ti aspetto Dalle 3 alle 6 E dalle 21 in poi Ok Andrea Scusami ma Ti ho visto adesso Mentre stavo proprio Schiacciando il bottone Per fermare la live Ho visto che sei entrato E salutato E sono venuto A salutarti A salutarti Ciao amico mio Io tutti i giorni Alle 21 Sono online In live Andrea E mi raccomando Sabato domenica Dalle 3 alle 6 E dalle 21 in poi E al sabato Poi vabbè Si finisce Alla domenica Alle 23 Smetto E probabilmente Domani Farming Simulator Con gli amici Sharder e Lord E se c'era anche Kevin Veniva anche Kevin Ma purtroppo Non ha la Playstation E domenica Domenica Facciamo la Formula 1 Come quella reale Quindi i giri giusti Ok ragazzi Ciao buonanotte a tutti Ciao Andrea Grazie Grazie che sei passato Ciao amico mio Grazie a tutti